Ciao a tutti, inizia da questo momento anche qui sul mio canale YouTube la rubrica dei video shorts, cioè i video brevi, quelli di un minuto, quelli che servono per commentare delle notizie senza dire troppe cose, molto velocemente. Inizia questa nuova era con una notizia incredibile, Simone Padoin entra ufficialmente a far parte dello staff dell'allenatore, Massimiliano Allegri, comunicato ufficiale della Juventus già uscito. Padoin è stato un giocatore della Juve dal gennaio 2012 al giugno 2016, ha vinto 5 scudetti, sappiamo che è il nostro talismano, un giocatore che ha sempre portato tanta solarità, tante cose belle, anche se non è mai stato un campionissimo, però gli abbiamo sempre voluto tanto bene. E questa cosa di portare Padoin all'interno dello staff tecnico è molto particolare, è molto particolare, sono veramente curioso di capire che cosa farà e anche molto contento del suo arrivo. Grande Simone!